Hola, ciao a tutti ragazzi. Oggi vorrei condividere con voi un pochettino la mia esperienza con la nutrizione all'interno di un Ironman, negli allenamenti. Ho capito quasi fin da subito che era una cosa veramente fondamentale in un evento che è così lungo e che necessita di così tanto dispendio energetico. E quindi è una questione che ho studiato approfonditamente, anche con un monitor di glucosio, per capire esattamente cosa sta succedendo nel nostro corpo a livello di utilizzo di carboidrati. Vorrei condividere questa esperienza con voi in qualità di age grouper amatore, neanche bravo fra l'altro. Non sono un nutrizionista, ho una piccola qualifica di nutrizione sportiva, ma non ho bell'età di apparire come un nutrizionista sportivo. Quindi, cosa dobbiamo mangiare durante un Ironman e quanto dobbiamo mangiarne? La risposta, nella mia esperienza, è carboidrati. Quanti dobbiamo mangiarne è una risposta che non esiste, perché è personale per ognuno di noi, perché ognuno di noi è differente. Ma soprattutto, vorrei prendere spunto da cosa dicono gli apici di questo sport, ovvero Christian Blumenfeld e Gustav Hiden, la loro risposta è veramente semplice. Devi mangiare tanti carboidrati più che puoi senza avere problemi gastrointestinali. Quindi questa sembra una risposta veramente semplicissima. Però vediamo più in dettaglio che cosa effettivamente significa mangiare tanti più carboidrati che possiamo. Io, nella mia esperienza, sono partito veramente da zero, ovvero quando ho iniziato non avevo idea di cosa fossero i gel, non avevo idea di cosa fosse praticamente un carboidrato all'interno di una performance sportiva, diciamo. Quindi io sono partito veramente dal comprare, ho comprato tre power bar e li ho mangiati un giorno che ho fatto una roba lunga due ore e mezza, tre ore. E lì ho visto che quando stava fiando l'energia è tornata immediatamente. E qua ho iniziato a studiare l'argomento, perché ho capito che era veramente una cosa che poteva svoltare per andare più a lungo, sostanzialmente. E allora ho iniziato con i gel, ho iniziato a prendere gel. E quanti gel bisogna mangiare per ora? E quindi ho iniziato a chiedere in giro, a informarmi. Il sapere comune era tre gel per ora. Tre gel per ora significa 60 grammi di carboidrato per ora. Ogni gel più o meno sono 20 grammi. Allora, questa risposta è giusta, non è sbagliata, però è molto mutata negli ultimi soprattutto due o tre anni, con l'avvento di Maarten. Maarten è un'azienda che produce nutrizione sportiva e hanno fatto un lavoro veramente senza senso. Nel senso che prima 60 grammi di carboidrato per ora era la risposta giusta, perché il nostro corpo può soltanto assimilare 60 grammi di glucosio per ora. Questo è una cosa scientifica proprio, non si può scampare da questa cosa qua. Forse può entrare in gioco il peso corporeo di una persona, ma in realtà anche lì è una questione un po' controversa. Maarten è arrivata e ha rivoluzionato la nutrizione sportiva in due modi. Il primo modo è che ha associato alle molecole di glucosio il fruttosio, ovvero glucosio 60 grammi per ora, ma associato al fruttosio noi possiamo prendere molti più carboidrati per ora. E oltre a questo hanno anche modificato il modo in cui queste molecole vengono digerite da noi, assorbite dal nostro corpo. E questa è una cosa che ha cambiato totalmente tutto, io questa è una cosa che l'ho provata. Ed è vera, funziona, si chiama hydrogel la tecnologia e sostanzialmente è un modo per assorbire diversamente queste molecole che evita in grandissima parte i problemi gastrointestinali, che sono il problema più grande quando uno va a prendere appunto 70, 80, 100, 110 grammi di carboidrati per ora. È un rischio abbastanza concreto quello. Io sono stato un hater di Maarten per un bel po', perché dicevo, ma Maarten è come lo zucchero da tavola, lo zucchero da tavola è 50% glucosio, 50% fruttosio. Ed è vero, Maarten praticamente è la stessa cosa a livello di molecola, ma a livello di delivery, quindi come viene assorbita il nostro corpo, è esattamente diversa. Si può mangiare molto di più senza avere problemi. Quindi la risposta è quanti più carboidrati possiamo senza avere problemi gastrointestinali. Nella mia esperienza io ho fatto il primo 70.3 con più o meno 60 grammi di carboidrati per ora. Il primo Ironman ho fatto, mi sembra attorno a 70, 80, ero bloccato un po' su quella cifra lì. Poi è arrivato Super Sapiens, ho iniziato ad allenarmi con costanza e con dedizione con Super Sapiens, e Super Sapiens è un monitor glucosio continuo. E questo è uno strumento pazzesco per vedere in tempo reale cosa succede alla nostra glicemia, ovvero quanto zucchero abbiamo in giro. E allenandomi con Super Sapiens, ma soprattutto facendo delle coaching call con i nutrizionisti di Super Sapiens, quando io gli ho detto che mangiavo 80 grammi di carboidrato per ora, mi hanno guardato come se fossi un pazzo, mi hanno detto 80 grammi di carboidrato per ora è quello che mangiano le cicliste professioniste pure leggera. E io ho detto, ma come? Prova a mangiare di più e vedi come ti senti. E questa è la cosa che io incoraggerei qualunque persona a fare. Io ho personalmente provato a mangiare di più sotto forma di acqua e zucchero, sciroppo d'acero, caramelle vegane gommose, Coca-Cola, Fanta, tutte queste cose qua. Io ho preparato il secondo Ironman senza consumare mai un gel, non ho mai mangiato un gel. Ho sempre fatto acqua e zucchero, sciroppo d'acero o caramelle gommose vegane. E facendo questa cosa qua ho gradualmente, ma neanche così gradualmente, aumentato la quantità di carboidrati per ora, passando da 60, 70, 80 ad arrivare a 100, 110. E questa cosa mi ha rivoluzionato completamente tutto. Perché durante l'attività avevo più energia. Ma soprattutto dopo l'attività, in fase di recupero, non ero mai morto, esploso come prima. E questo perché? Beh, queste sono le mie esperienze, ma questo succede perché noi abbiamo all'interno del nostro corpo due sistemi energetici. Un sistema energetico che si basa sul glicogeno, ovvero sono zuccheri che vengono stoccati nei nostri muscoli. Circa 400 grammi nei muscoli e 100 grammi nel fegato. E queste sono scorte di zuccheri del nostro corpo, che vengono utilizzate in base alla intensità che facciamo durante un arco di tempo e durante un'attività. Dovrebbero essere più o meno circa 2000 calorie comunque. Una volta che queste finiscono, noi passiamo a utilizzare il secondo sistema energetico, ovvero quello basato sui lipidi, sui grassi. E questo cosa significa? Significa che quando noi utilizziamo soltanto lipidi, l'intensità del nostro sforzo non potrà essere così elevata. Quindi è molto importante, adesso la faccio super semplice e soprattutto, ripeto, non da nutrizionista. È molto semplice avere sempre degli zuccheri in circolo, ma soprattutto mangiando da subito, durante un Ironman, più mangiamo più preserviamo il glicogeno. Quindi viene utilizzato meno glicogeno dei nostri muscoli, che ricordo è una quantità finita, e utilizziamo più lo zucchero che noi introduciamo. Che non è tanto, non potrà mai essere abbastanza da colmare il dispendio energetico che noi stiamo affrontando. Non potremo mai mangiare abbastanza per colmare 700 calorie per ora. Perché un grammo di carboidrati sono 4 calorie. Quindi se noi mangiamo 100 grammi di carboidrato per ora, sono 400 calorie. Non potremo mai colmare con la cifra di 700 calorie. Poi se fa freddo potrebbe anche essere di più. E quindi, preservando il glicogeno, questa cosa ci permette di avere un'intensità relativa al nostro stato di fitness, più elevata rispetto a se utilizzassimo soltanto i grassi. E un'altra cosa molto importante, e l'unica scorta di glicogeno che noi riusciamo a ripristinare quasi immediatamente, diciamo, è su quella del fegato. Ed è molto importante il glicogeno del fegato, perché è tipo la fiamma pilota che fa in modo che noi riusciamo a ossidare grassi ad un'alta intensità. Questa ci chiama Fat Max Oxidation, ovvero l'ossidazione più alta che possiamo di grassi a l'intensità più elevata che possiamo. E questa si aggira attorno a 0,72 intensity factor, 0,75 intensity factor. Queste sono le cifre che, relativo al nostro FTP durante una gara Ironman, teniamo, nel 70.3 sarà più alta, sarà 0,85 della nostra FTP. E quindi introdurre più carboidrati che possiamo è una cosa veramente fondamentale per poter andare ad un'intensità più alta per tot numero di ore. Qua stiamo parlando di uno sforzo da 10-12 ore, anche 13 ore. Io non vedo nessun tipo di controindicazione nel mangiare troppi carboidrati, se non quello di avere problemi gastrointestinali. E qui arriviamo al noccio della questione. Come facciamo a mangiare più carboidrati che possiamo senza avere problemi? Bene, questa cosa va allenata, secondo me, in due modi. Uno per la quantità di carboidrati, bisogna essere abituati alla quantità di carboidrati, perché sono tanti, e io infatti avevo un grosso blocco in questa cosa. Non riuscivo ad andare oltre i 70 perché proprio mi veniva, non volevo più mangiare dolce, sostanzialmente. E questo l'ho modificato provando differenti tipi di carboidrati, quindi io sono arrivato al mio carboidrato che, beh, sono tre in realtà. Acqua e zucchero, ma ancora meglio sciroppo d'acero, e ancora meglio martin, martin gel. Queste sono le tre cose che io predilivo sopra da tutto. E questa cosa va provata durante l'allenamento dell'airman, quindi nei mesi prima bisogna fare, non delle robe a caso, bisogna fare delle sedute di allenamento veramente specifiche, quindi con l'intensità della gara, e soprattutto con durate elevate. Perché un contesto andiamo a fare un 70.3, nel 70.3 si può ancora sbagliare un po' la nutrizione, secondo me. Ma in un airman completo, se sbagli la nutrizione e mangi troppo poco, pagherai le conseguenze, ma di brutto. Cioè arriverai alla seconda metà della maratona, che in realtà è dove la gara succede, dove viene fuori tutto, è la seconda metà della maratona, e cammineremo. Cammineremo, o andremo a una velocità, andiamo pianissimo, perché non avremo abbastanza energia in circolo, poi anche avremo i muscoli super stanchi, ma quello è un altro discorso, quello va allenato in una maniera diversa, ma non avremo abbastanza zucchero in circolo, perché il nostro corpo è andato talmente in deficit, che dovremo camminare. E questa è una brutta cosa, che a me è successa nel primo airman. Io non ho proprio camminato, ma ero a una velocità di corsa, che era veramente molto più bassa di quello che poteva essere. Quindi va allenato in questo modo qua, facendo sedute lunghe, e provando e provando e riprovando queste cose, per non avere poi problemi durante il giorno della gara. Facendo l'intensità giusta, provando le cose tante volte, provando differenti tipi di carboidrato, e mirando a quella cifra magica, che io nel mio caso ho trovato a essere 110 grammi di carboidrato per ora. Questo è il mio limite per il momento. E assolutamente questa cosa qui ci potrà aiutare tantissimo il giorno della gara. Quindi allenarlo in allenamento, dove possiamo sbagliare, possiamo avere dei problemi e correggere, è una cosa, secondo me, fondamentale. Che io questa non rifarò. Rifarò, anzi, rifarò in maniera anche più specifica. Questo limite massimo è un limite che va ricercato, va provato, e secondo me bisogna provare a spingerlo. Perché non, ripeto, secondo me non ci sono controindicazioni a mangiare troppi carboidrati. Quello che succederà è che non verrà utilizzata con l'energia in quel momento, ma verrà utilizzata dopo. Però dobbiamo fare molta attenzione a non avere problemi gastrointestinali. Questo è fondamentale, perché quello sarebbe peggio che mangiare troppo poco. E questa è una cosa che va veramente studiata e fatta in allenamento, secondo me. E vorrei condividere con voi quello che ho mangiato io durante l'ultima giornata del mio Ironman. Perché è una cosa che tante persone, quando io dico quanto mangio, si mettono a ridere, dicono ma cosa fai, ma sei pazzo. Però il problema è che queste stesse persone, quando poi andiamo a fare un giro assieme, e andiamo a fare un giro epico, lungo, sono le stesse persone che a metà giro sono esplose. Perché non hanno iniziato a bere e mangiare subito tanto. Non hanno una borraccia piena con 200 grammi di zucchero. E la bevono nelle prime due ore. E quindi vorrei dirvi esattamente cosa ho mangiato. Io ho mangiato, mi sono svegliato a colazione, queste tre ore appena della partenza, 100 grammi di Frosties, 50 grammi di latte di riso, un caffè decaffinato. Poi ho bevuto 100 grammi di acqua e zucchero, diluiti in una bottiglia, con della polvere di barbabietola, mentre andavo alla gara, sostanzialmente. Prima del nuoto, un gel. Mi sembra fosse un Enervit, però non considerare a nessuno di utilizzare il gel Enervit, era solo l'unica cosa che avevo. In transizione, una Monster Energy verde da mezzo litro, quindi carboidrati più caffeina, 500 grammi di sciroppo d'acero, dentro alla borraccia aero nella bici, 250 grammi di zucchero di canna diluito in acqua, 6 gel Enervit da 20 grammi l'uno, 6 Gatorade alle stazioni Aid Station dell'Ironman, e 6 litri d'acqua. Oltre a questo, ho preso, mi sembra, 8000 milligrammi di sodio in capsule. Transizione 2, ho bevuto 200 grammi di acqua e zucchero, in un sorso solo, durante la transizione. Durante la maratona, 10 Mauten senza caffeina, 3 Mauten con caffeina, 6 gel Enervit, anche qui non lo consiglio nessuno, potessi tornare indietro a fare i Mauten, solo Mauten. Gatorade e Coca-Cola a ogni singola Aid Station, ogni singola stazione bevo Gatorade e Coca-Cola, che è sempre soltanto un sorso, perché non si riesce tanto a berne di più. 6 bicchierini di Red Bull. Io non dico che sia una strategia giusta o sbagliata, questo è quello che ho fatto io. Io ho affrontato l'Ironman con la Energy Band di Super Sapiens, quindi io potevo vedere in ogni singolo istante qual è la mia valore di glicemia. E questo mi ha aiutato veramente parecchio, perché? Perché faceva molto freddo in bici, e facendo freddo in bici, il nostro corpo ha un dispendio energetico più elevato. Quindi io ho visto il trend di glucosio che andava giù a sotto 90, che è abbastanza pesato, non dovrebbe mai andare sotto, dovrebbe essere sopra 100 sicuro, sopra 110. E è andato sotto 90, quindi io cosa ho fatto? Questo entra in un'altra questione che è il timing, ogni quanto bisogna mangiare durante un Ironman, no? Perché questo è anche molto importante secondo me. Però è una risposta molto variabile. Secondo me ogni quarto d'ora, 20 minuti, bisognerebbe mangiare qualcosa in condizioni ottimali. Però il discorso è, se fa freddo bisogna mangiare di più, e magari in un momento bisogna mangiare molto di più. E quindi anche questa è una risposta che va approvata da ognuno. Ognuno ha il suo modo di farlo, e il suo modo più preciso di farlo, e che gli aiuta a rendere di più. Quello che posso dire io, è che ho fatto così. Quindi, avendo la Energy Band, io potevo vedere i miei valori in tempo reale, e correggere il percorso, e quello è stato un aiuto veramente incredibile. Per chi non ce l'ha, io ripeterei, fare in allenamento tutti gli errori, così poi che non si ripetano durante il giorno della gara. La regola base, di solito, è ogni 20 minuti, mangiare qualcosa e bere qualcosa. Buon, questo è un video molto breve, penso che ne farò uno più approfondito su questa cosa qua, ma qua ci sono tutti i concetti fondamentali. Quindi, allenarsi a mangiare più carboidrati possibile, allenarsi a mangiare i carboidrati giusti, che non ci danno problemi di stomaco. Io personalmente ho provato su me stesso questi problemi, cioè, se io mangio roba solida, o roba con proteine, o roba, a me non funziona quella roba lì. Cioè, io mi devo fermare, e ho problemi gastrointestinali. Io farò, per il momento almeno, liquidi. Uno sforzo da 10, 11, 12 ore, solo nutrizione liquida. Per me non ha senso, e per tantissima gente con cui parlo, e io mi interfaccio con soprattutto tre persone, che sono uno, un coach, che ha una filosofia molto diversa da me, e ne sa a pacchi, o un altro, che è un proponent dello zucchero pazzesco, quindi è super gasato di zucchero, e ti direbbe di mangiare ancora di più. Infatti, mi dice sempre di mangiare ancora di più. E poi, sono interfacciato con i nutrizionisti di Super Sapiens, che mi hanno detto queste cose qua, e che dire, mangiate, mangiate più che potete, perché, secondo me, non c'è un lato negativo da mangiare troppo. Provate, sperimentate, sperimentate su voi stessi, se avete i soldi per fare un mese con Super Sapiens, un mese proprio preciso, cioè un mese in cui state facendo tutte le sessioni, prima della gara. Fate un mese con un monitor di mercosio continuo, e scoprirete così tante cose, sia dell'allenamento, ma anche del recupero, che, secondo me, è veramente una spesa che ne vale la pena. Grazie per aver guardato il video, spero che avete trovato queste informazioni utili, interessanti, ripeto, io sono un age grouper super scarso, non sono bravo, però, sono abbastanza informato di questa roba qua, penso di aver parlato con tante persone che ne sanno più di me, che mi hanno dato dei consigli scome validi, e quindi ci tenevo a condividere con voi, in modo tale che possiate raggiungere i vostri obiettivi in maniera veloce, efficace, divertendovi, scoprendo che i vostri limiti in realtà sono ben oltre quello che pensate, anche grazie alla nutrizione. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video così, grazie mille per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima. Grazie mille.